Musica Amici di Cusano Italia TV, buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Crimini e Criminologia. Lo anticipo, una puntata da non perdere perché saranno tanti gli argomenti che andremo ad approfondire. Andiamo subito a scoprirli questi approfondimenti che faremo con quelli che sono i titoli di oggi. Con la regia di Samuel Maiolatesi possiamo partire. Partiremo proprio dal rugo di Centocelle, Alessandro Femia, poteva essere salvato. Questo è il titolo che abbiamo scelto per quanto riguarda il tema portante di questa trasmissione. Ricordiamo 26 marzo 2022, 4.37 del mattino, questo terribile incidente, lo scontro dell'auto di Alessandro Femia con un autobus a metano divampano le fiamme. Alla fine, soltanto molto tempo dopo lo scontro, ci si accorge che nell'auto c'era una persona che appunto era Alessandro e poteva essere salvato se qualcuno avesse fatto qualcosa, cosa che invece non è stata fatta. Andiamo avanti e scopriamo il prossimo argomento, questo ovviamente è sempre il primo titolo. Poi, crimini nei cieli, perché a proposito della nuova grande stagione di crimini e criminologia torna l'appuntamento con l'epoca nera dei dirottamenti. Parleremo di quanto avvenne a Tenerife nel 1977, il più grande disastro aereo di tutti i tempi. Lo scontro tra due giambo e quasi 600 morti. Ne parleremo con l'esperto sicurezza volo, il dottor Antonio Bordoni. Ancora, perché poi a proposito di quelli che sono i titoli, si tornerà con la rubrica La chiave di volta a parlare del rugo di Centocelle che Alessandro poteva essere salvato. Soprattutto parleremo di questa moda, purtroppo, che ha preso piede da tempo di filmare le tragedie, firmare i drammi altrui senza fare niente, senza intervenire, ma utilizzando il telefonino per poi correre a pubblicare sul web, sui social, quanto è stato ripreso. Ovviamente nello stesso blocco della rubrica La chiave di volta parleremo anche di guerra, con il nostro osservatorio sui crimini di guerra, ovviamente con la corrispondente da Kiev, dall'Ucraina Irina Gulei. Le nostre rubriche. Dopo la chiave di volta torna l'appuntamento con quella che è la Galleria degli Orrori. Oggi faremo un bel passo indietro nel tempo, perché andremo al XIX secolo, al 1800, per parlare di Giorgio Ursolano, la Iena di San Giorgio, serial killer che stuprò e uccise tre ragazzine. E poi per il ciclo Italia in giallo e nero, invece parleremo dell'omicidio di Lidia Macchi, 36 anni senza un colpevole, uccisa nel 1987, si è sfiorato anche un clamoroso errore giudiziario, anche se poi è stato commesso perché Stefano Binda si è fatto più di tre anni di carcere da innocente. Detto questo, ricordiamo anche il numero per voi che ci seguite da casa e potete inviare i vostri messaggi, sms o whatsapp al numero che vedete in sovraimpressione 334-92-29505. Vado a proposito del primo titolo, del primo argomento, del tema portante di questa puntata, il rogo di Centocelle. Alessandro Femia poteva essere salvato a presentare gli ospiti, a partire dal papà di Alessandro Femia, Anselmo Femia, che è qui in studio. Buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, buonasera e grazie a voi per l'opportunità di questo spazio, grazie. Al suo fianco, invece, il legale della famiglia Femia è l'avvocato Felice Cardillo. Buonasera anche a lei, avvocato. Buonasera a tutti, buonasera. Grazie, naturalmente, anche all'avvocato Felice Cardillo. Grazie, nello specifico, in maniera particolare, devo dire, invece, all'altra ospite, Tiziana Ciavardini. Buonasera. Salve, buonasera e grazie sempre per l'invito. Giornalista del Fatto Quotidiano, antropologa culturale. Un grazie speciale perché sta seguendo questa vicenda fin dall'inizio, è stata a fianco della famiglia e io vorrei partire proprio da te, Tiziana, per raccontarci quello che è stato il fatto. Abbiamo deciso di non realizzare la consueta scheda copertina proprio perché ci sei tu che da quel giorno, comunque sei vicino alla famiglia e stai seguendo da giornalista in maniera particolare. Non è il tuo campo specifico, non la cronaca che ti occupi di Medio Oriente e di tutt'altro, però ti sei presa a cuore questa storia. E allora nel vedere anche, dico alla regia, qualche foto terribile di quella notte, il racconto di Tiziana Ciavardini su quanto avvenne, quanto poteva essere fatto e non è stato fatto. Sì, la storia comincia diciamo dalla sera del venerdì, il venerdì 25, Alessandro va a cena con degli amici e poi viene portato a casa, alle tre e mezza di notte viene lasciato su via Nomentana pensando che appunto sarebbe tornato a casa e invece prende la sua vettura e si rega nella zona di Centocelle. Vengo coinvolta in questa vicenda perché io sono nata e cresciuta a Centocelle, quindi un quartiere che conosco molto bene e come dicevi te non mi sono mai occupata di cronaca nera su Roma, ma ho seguito questo caso proprio perché poi tramite amici ho avuto modo di conoscere la famiglia e quindi mi sono appassionata soprattutto a cercare la verità di questo caso. Alessandro percorre presumibilmente la via Palmiero Togliatti, prende via De Faggi e all'incrocio tra via De Cassani e via De Faggi davanti a un fast food che è appunto il Burger King di via De Cassani ha un incidente, ha un impatto con un mezzo attack. Infatti stiamo vedendo le immagini, poi vedremo anche dei video particolarmente forti. Ha un impatto con il mezzo attack e cominciano non subito delle fiamme, vediamo le persone dai video che ci sono arrivati, noi abbiamo tantissimi video, tantissime foto, qui ne mostriamo solo alcuni ma ce ne sono arrivati veramente tanti in maniera autonoma, in maniera anonima e ne chiediamo ancora se qualora ci fossero delle persone che ancora sono in possesso di video che non sono stati ancora recapitati alla famiglia e questi video ci mostrano che c'era gente intorno alla vettura di Alessandro ma di fatto nessuno apre lo sportello per vedere chi ci fosse all'interno di quella macchina. Le prime notizie subito che sono uscite erano che qualcuno si fosse allontanato da quella macchina, Claudicante, una persona, un ragazzo con un cappuccio nero sulla testa, con una barbetta e avesse lasciato la macchina da sola. Questo poi abbiamo verificato, questo ha ingannato tutti quanti, non sappiamo le prime notizie, da un primo testimone viene detta questa cosa, poi questo testimonio dice no ma me l'ha detto l'autista, insomma noi non sappiamo esattamente chi esattamente abbia detto questa notizia, di fatto questa notizia ha sviato le indagini perché poi chiunque è andato lì non è andato a controllare che ci fosse all'interno della macchina anche se sarebbe dovuto essere un dovere di ognuno, di quelle persone, anche quelli che stanno facendo i filmati, anche di chi sta facendo le fotografie, dovevano verificare che ci fosse all'interno della macchina perché anche se fosse stato vero che una persona fosse uscita da quella vettura, noi non sappiamo, nessuno poteva sapere se dentro non ci fossero altre persone. È strano anche che non l'abbiano visto, è vero che c'era fumo, finestrino, però si poteva vedere una persona che era lì dentro. Ma guarda ci sono delle immagini prese anche dall'alto che fanno vedere la sagoma di qualcuno che è al posto del guidatore. Questo anche rigide il fuoco, poi non lo fanno. Guarda, i video parlano, posso anche non parlare perché parlano i video e le fotografie e ci mostrano che ci sono anche i vigili che stanno dando acqua al finestrino eppure nessuno va a vedere chi c'è dentro la vettura. Ed è anche molto strano che nessuno abbia detto ma volete controllare chi c'è all'interno di quella macchina? Questa fosse la foto che dicevi, che si intravede una sagoma. Esatto, ed è molto strano che nessuno si sia avvicinato. Potevano esserci mille problemi, il ritorno di fiamma, però nessuno è andato neanche ad aprire il portabagagli, quindi anche dietro. Se tu vedi dalle foto la macchina dietro è intatta, è solo la parte davanti. L'abbiamo vista. È ovvio che poi dopo è andata a fuoco più tardi, ma parliamo già nelle ore successive. Nell'immediatezza, nei primi dieci minuti non è successo niente. E comunque anche più tardi nessuno ha aperto quello sportello. Infatti il corpo di Alessandro è stato trovato poi alle sette di mattina. E tutto un stato di tempo si poteva fare tantissimo. Anche estrarre un corpo, perché poi ce ne parlerà anche l'avvocato e anche il papà, dall'autopsia, perché è stata dovuta fare un'autopsia, perché proprio il corpo era irriconoscibile e hanno dovuto fare la prova del DNA. E con questa prova praticamente poi si è fatta appunto l'autopsia. E attraverso l'autopsia si è visto che Alessandro non è morto per l'impatto dell'incidente. Se l'airbag lo ha in quel modo salvato, e quindi è morto invece per i fumi inalati e appunto questo shock termico, esatto. Fiamme che all'inizio diciamo non erano come le abbiamo viste, all'inizio non c'erano fiamme. Guarda, se non avessimo avuto questi... Esatto, ma io vorrei anche ringraziare, prima che passi la parola agli altri ospiti, anche tutti coloro che ci hanno mandato i video, perché sono stati veramente molto utili, perché se non avessimo avuto questi video avremmo avuto qualche dubbio. Con questi video abbiamo la certezza che Alessandro è stato volutamente lasciato interno alla macchina, senza essere salvato e sicuramente si poteva salvare, non è un dubbio, forse, non c'è un forse, è una certezza, Alessandro poteva essere salvato. E infatti è come recita poi d'altronde il nostro titolo, senza punto interrogativo, proprio un'affermazione, ovviamente chi ci sta seguendo, se ci sta seguendo qualche persona che ha altri video che era lì quel giorno, ricordiamolo, 26 marzo 2022, 4.37 della notte, del mattino quasi, l'incidente, potete scriverci al 334-9229-505, sms o whatsapp, segnalateci, poi naturalmente vi contatteremo per aiutare la famiglia proprio a capirne di più. Intanto approfitto l'ontravista, prima credo sia collegata anche la psicoterapeuta e giornalista, mi confermano dalla regia la dottoressa Barbara Pabroni, si è giunta a noi. Buonasera dottoressa, buonasera Fabio, saluta i suoi ospiti. Poi la sentiremo, è una delle nostre opinioniste, poi sentiremo anche l'avvocato, ricordo il racconto anche del papà Anselmo Femia, anche a proposito di tante cose strane, come ha raccontato Tiziana Ciavardini, che non sono accadute soltanto dalle 4.37 in poi, ma c'è tutto un giallo che riguarda anche quello che era successo durante quella serata, che poi avete saputo successivamente. Sì, la serata di un giovane, insomma, ha finito con gli amici, era rientrato in casa, stava a casa, è stato chiamato da delle amiche che stavano in discoteca, erano rimasti a piedi, così mi è stato detto, e lui si era preoccupato di andarle a prenderle. E purtroppo è incappato in questa... Dopo è successo questo nella notte. Dopo è successo questo, certo, questa è stata la... La cosa strana appunto è proprio questa, è che non si capisce per quale motivo nessuno ha aperto lo sportello della macchina. Ci stanno tante incongruenze anche nelle indagini, indagini fatte così... Lo so, secondo me non sono state indagini proprio... Non voglio, mi trattengo sulle parole, dico... Ma è chiaro che... Sì, però può dire quello che... Ad esempio il fatto che non vi abbiano consegnato i tabulati telefonici è già un qualcosa di strano. No, a part i tabulati, ma questo lo può fare la procura, non è che noi possiamo chiedere... Beh, magari all'avvocato, per capire anche gli spostamenti di Alessandro, no? Esattamente, esattamente, questo potrebbe... Può aiutare. Sicuramente ci può aiutare. Ma è tutta la storia strana, cioè Alessandro viene ritrovato dalle 4.40, 4.37, alle 7, come diceva la dottoressa Ciavardini, alle 7 del mattino. Aveva la cinta, hanno trovato il corpo, sì, almeno dalle indagini, che stava riverso e che non si poteva vedere. Hanno anche riscontrato che però Alessandro aveva la cinta, quindi sicuro la cinta di sicurezza non può cascare sul sedile a fianco. Ma bensì quello sicuramente saranno stati gli idranti dei vigili che hanno fatto sì che il corpo si adaggiasse sul sedile lato passeggero. Quindi ci saranno una serie di incongruenti tra... È una storia molto strana. Stranissima, a partire dalle indagini. Alcuni testimoni riferiscono che l'autista ha detto sì, no, è scappato, l'abbiamo visto. È questo fatto di questa persona che è scesa, quindi è quello che ha depistato tutti, per dire che non c'è nessuno. Questo è uno che è arrivato, è arrivato lì. Poi abbiamo chiesto anche le telecamere, ha risposto all'Atac, alla procura, la procura l'ha chiesto, le telecamere di sorveglianza dell'autobus, dicendo che sì, ma è stato dato tutto a fuoco. Questo in parte non è vero, perché sarà andato a fuoco quello che stava sull'autobus, ma i sistemi Atac, come tanti altri auto privati, hanno un sistema AVM che trasmette tramite satellite, il satellite secondo per secondo, tutta la storia dell'autobus, a quanto cammina, se fa le fermate. E questo poteva aiutare. Questo ci può aiutare, tuttora ci può aiutare, perché queste rilevazioni che vengono poi trasmesse sia al Comune che alla Regione. Quindi da lì si può tranquillamente capire se veramente, come dice il testimone, l'autobus ha fatto la fermata. Un'altra cosa importantissima ancora, che l'auto non percorreva la corsia dove è praticamente per gli autobus, dove è adeguita ad autobus, ma bensì tutto l'incente è successo in questa maniera, perché non percorreva la sua corsia, la corsia dove è quella obbligatoria per i mezzi, soprattutto per la linea 5. ovviamente era un notturno, un notturno che sostituiva il tram, che doveva percorrere quella corsia, assolutamente. E poi la macchina sembra quasi che va a sbattere dalle immagini, no Tiziana, sembra quasi che prende di fianco l'autobus. No, ma non è successivamente, perché l'impatto centrale è frontale? No, non è frontale, è laterale, l'autobus arrivava da Via dei Castani, lui arrivava da Via dei Faggi, si prendono in punta. Praticamente lui pensava, Alessandro di poter, dopo questo è successo, lui pensava di poter schivare l'autobus, ma l'autobus comunque andava, noi abbiamo i video, non li possiamo mostrare perché c'è l'indagine in corso, noi abbiamo i video, noi abbiamo i video che ci mostrano esattamente come è stato l'impatto, non li possiamo mostrare perché c'è ancora l'indagine in corso. e da questo video si vede come se Alessandro volesse in qualche modo passare e non si aspettava che l'autobus probabilmente andasse così velocemente. E c'è da dire anche un'altra cosa, che ancora non è stata fatta una perizia né sull'autovettura né sull'autobus, quindi noi non sappiamo a quanto andasse Alessandro e a quanto andasse l'autobus. E anche queste sarebbero cose importantissime anche per i genitori, per sapere, non cambia niente, però per sapere se quel ragazzo veramente andava a 100 o se andava a 60 o se andava a 40, cambia niente. E' sempre giusto sapere la verità, come sono andate realmente le cose. Ecco, dico alla regia Samuel Maiolatesi, quel video di cui poi faremo ascoltare anche l'audio in presa diretta, lo possiamo intanto utilizzare come copertura per mostrare quella tragica mattinata praticamente, perché questo video è dopo le 5, è stato girato. Sentiamo l'avvocato, avvocato c'è ancora ovviamente l'inchiesta in piedi, no? È aperta. L'obiettivo vostro è soprattutto che non si arrivi all'archiviazione. Assolutamente, adesso siamo in una fase in cui il pubblico ministero ha richiesto l'archiviazione e noi abbiamo presentato con la famiglia opposizione alla richiesta di archiviazione, per cui il giudice dovrà fissare un'udienza in Camera di Consiglio in cui dovrà decidere se effettivamente aderire a quanto argomentato dal pubblico ministero o a quanto invece sostenuto da noi, perché noi rileviamo una serie di incongruenze, soprattutto mancanze, come dicevate poc'anzi. Ovviamente noi dal punto di vista giuridico non ci interessiamo a quello che è successo prima, ma perché il momento è quello dell'evento, l'evento morte, la causa della morte e ovviamente se poteva essere salvato o meno questo ragazzo di 25 anni. L'autopsia è stata chiara però. L'autopsia è stata chiara, nel senso che non è morto per l'impatto. Esatto, quello è andato assolutamente rilevante, per questo parliamo di carenze di indagini, perché poiché sono stati trovati fumi nei polmoni, in maniera significativa, il che vuol dire che lui è stato praticamente tragicamente vivo per una serie di minuti e in quei minuti poteva essere salvato. In questi minuti noi non, dicevo le carenze, la carenza è, non è stato accertato il tempo di propagazione, di sviluppo di quell'incendio. Noi abbiamo per fortuna acquisito, grazie al contributo della famiglia di Tiziana Giavardini, di chi era lì presente e ha fatto un video, ha acquisito anche dei video, in effetti la procura ne ha acquisiti due, da dove si evince che almeno dieci minuti pieni, quindi dai 15 ai 10, le fiamme non erano così importanti da non consentire a qualcuno di avvicinarsi. È quello che dicevo prima, all'inizio... Esatto, era blanda come... C'era proprio quello, ecco, questo già, qui siamo oltre, no? Poi questi autobus hanno questa particolarità, più volte hanno preso fuoco da soli, no? Lì dovremmo aprire un'altra puntata. Poi ne parliamo, perché facciamo completare l'avvocato. Sì, sì, no, quello è uno degli elementi fondamentali, i tempi di propagazione dell'incendio e anche questo che solleva lei, cioè la sicurezza di quel mezzo in particolare, ovviamente a noi interessa, però sarebbe bene sapere anche la sicurezza di certi mezzi. E in quel caso particolare, effettivamente, non è stato accertato se un urto, che è un qualcosa di assolutamente prevedibile per un autobus che circola per strada, abbia causato o meno un incendio e quindi se era sicuro o non era sicuro, non è stato accertato se l'autista o gli altri autisti che poi sono intervenuti, comunque nel caso particolare ci interessa quell'autista, avesse o meno la formazione idonea a praticare, a spegnere un incendio, a capire se doveva essere estratto il corpo. Comunque la cosa che balza gli occhi e su cui si fonda la nostra censura è che quello sportello non è mai stato aperto da nessuno fino alle sette di mattina, cioè lo hanno aperto i vigili del fuoco dopo aver spento l'incendio. E' questo, credo. Allora, siamo in chiusura di capitolo primo di questa puntata di crimine e criminologia, ma visto che non abbiamo ancora veduto immagini che riguardano Alessandro, per ricordare anche a chi ci segue, possiamo vedere una foto del povero Alessandro Pemia, e ne abbiamo anche un'altra che è un po' quella più diffusa a proposito di mezzi di informazione. Qui c'è anche quell'appello urgente, poi ne parleremo, possiamo anche far vedere, e poi la approfondiremo, la lettera anonima che è arrivata e poi la commenteremo successivamente. Eccola, ovviamente poi vi diremo cosa c'è, qual è il contenuto di questa lettera anonima. E poi a proposito di un appello molto particolare, scritto da Tiziana Ciavardini, proprio in prima persona, anche come racconto, come se fosse Alessandro, abbiamo anche questo, ecco, diciamo un appello postumo, potremmo definirlo così, dello stesso Alessandro lasciato morire. Nell'indifferenza di tanti. Torniamo tra pochissimo, linea alla regia, crimini e criminologia torna col secondo capitolo tra pochi istanti. E ben ritrovati da Fabio Camillacci, secondo capitolo di crimini e criminologia, il titolo resta lo stesso, il rogo di Centocelle. Alessandro poteva essere salvato, Alessandro Femia. Ricordo 26 marzo 2022, questo incidente alle 4.37 del mattino a Roma, in zona Centocelle, in via dei Castani. Continuiamo a parlarne con il papà di Alessandro, Anselmo Femia, poi in studio ricordo ancora l'avvocato Felice Cardillo, e poi la collega, la giornalista, la antropologa culturale, Tiziana Ciavardini, che segue questa vicenda fin dall'inizio. Era in collegamento, non l'ho chiamata in causa prima, lo faccio adesso. La dottoressa Barbara Fabroni, le chiedo subito appunto un suo pensiero su questa incredibile storia che è avvenuta a Roma. Beh Fabio, ho detto bene lei, è un'incredibile storia, che senza dubbio apre veramente tantissimi punti interrogativi, e soprattutto chiama in causa le persone che non hanno portato assolutamente nessun soccorso, anche perché è vero che ci sono state tante persone che hanno fatto filmati, hanno fatto video, e che sicuramente sono importanti adesso per la famiglia per capire, ma è anche vero che quelle persone o comunque soccorritori potevano fare qualcosa. È senza dubbio una vicenda che, voglio dire, lascia toniti di fronte a tutta questa valanga di dolore. Tra l'altro la bellissima lettera che è stata scritta a distanza di un anno in prima persona, dove sembra che Alessandro racconti proprio il suo momento, quel momento in cui lui è stato abbandonato a se stesso e alla sua fine, praticamente alla sua morte, senza che nessuno comunque si rendesse conto che c'era lì dentro una persona, perché io mi sono chiesta sebbene all'inizio avessero detto che avevano visto allontanarsi una persona, però in una macchina ci possono essere tante altre figure, non è detto che ci fosse soltanto una persona. E ho visto delle immagini tra l'altro in internet così che la macchina all'inizio non era del tutto incendiata, ma c'era una parte, soprattutto la parte retro e la parte del portabagagli, comunque in cui qualcuno poteva accedere, se non altro aprire un varco per poter comprendere quello che accadeva. Io sposo davvero la forza e la voglia di arrivare alla verità della famiglia, anche della collega giornalista e dell'avvocato, oltre che del padre. Credo che questo sia importante e significativo, perché deve lasciare assolutamente un segno perché queste cose non accadano più. Ecco, subito dopo lo scontro qualcuno ha dichiarato di avermi visto scendere dalla macchina con il cappuccio nero sulla testa e allontanarmi soppicando dalla mia vettura. Non era vero, ero seduto in macchina al mio posto di guidatore. Intorno a me c'era gente che prendeva gli estintori, chiacchierava, chiamava i soccorsi, qualcuno scattava foto e video, poi i vigili del fuoco con gli idranti, ma nessuno ha visto che ero lì ed ero visibile a pochi metri di distanza. Ho aspettato che qualcuno mi venisse a tirare fuori, mentre le fiamme iniziavano ad alzarsi. Ho aspettato, aspettato, ma non è arrivato nessuno. Nessuno ha aperto il mio sportello, nessuno ha rotto un finestrino, nessuno ha provato ad aprire il portabagagli e vedere chi ci fosse all'interno della macchina. E' Alessandro che parla, idealmente, opera di Tiziana Ciovardini. Sì, mi chiamano un po' notare la gola perché è stata una lettera che io ho scritto molto, diciamo, sono stata male per scrivere questa lettera, però era un messaggio molto importante e questa lettera noi l'abbiamo affissa proprio nel luogo in cui è morto Alessandro. Abbiamo questa, che non è la lettera che abbiamo visto prima, quella è quella anonima. Vediamo la lettera appello, no? Esatto, la lettera appello la potete trovare proprio a Via dei Castani, angolo Via dei Faggi, proprio nel luogo in cui è morto Alessandro, proprio per sensibilizzare le persone. Non è solamente una lettera nel quale Alessandro racconta quello che gli è capitato, ma soprattutto è l'appello che fa Alessandro chiedendo, data mio padre, i video, le foto, tutto quello che sapete, le informazioni che sapete, affinché possiamo tutti quanti trovare pace. E soprattutto, come diceva la dottoressa, perché queste cose non avvengano mai più, perché quello che è capitato a me, dice Alessandro, non deve mai più capitare a nessun altro, perché credo che ognuno di noi, in un momento così drammatico, quando stai per morire, vedi gente intorno a te, perché noi non sappiamo, e questo anche, che noi non abbiamo la percezione di quanto Alessandro abbia vissuto all'interno di quella vittura, vedendo la gente intorno a lui che scattava foto, vedeva quello che era successo, forse era assordito, forse era svenuto, ma noi questa certezza non ce l'abbiamo. Forse era cosciente, non riuscivamo a muoversi. Era cosciente e non poteva muoversi, perché comunque era scoppiato anche l'airbag. Voi immaginate che situazione ha vissuto questo ragazzo, respirando quei fumi che poi sono diventati, diciamo, il motivo della sua morte, vedendo tutta questa gente intorno che scattava foto, faceva video, e sperava, qualcuno qui adesso aprirà uno sportello, perché bastava far passare un po' d'aria e Alessandro non sarebbe morto, bastava pochissimo, aprire il portabagagli, come ha detto la dottoressa, tirare un sasso, fare qualsiasi cosa. Poi vedremo anche un filmato avvenuto in Australia, un fatto avvenuto in Australia, lì c'è proprio l'incendio, la persona viene salvata. Esatto, quindi si poteva fare tantissimo per salvare Alessandro, non è stato fatto e quindi se ci sono delle colpe, andranno individuati i responsabili, perché anche chi ha fatto le foto, che come dicevamo prima, sono state molto utili, perché ci hanno dimostrato quello che effettivamente è successo, però insomma qualcuno poteva gridare, ma siete sicuri che non c'è nessuno dentro quella macchina? Nessuno si è costruo il dubbio. Nessuno, nessuno l'ha detto, perché da nessuna parte risulta questo, bastava una persona che sollevasse il dubbio e qualcuno sarebbe andato a controllare, invece questo non è stato fatto. E addirittura dicevano, e questo lo sappiamo perché ce l'abbiamo anche nelle carte, di non avvicinarsi, perché da lì si sarebbe scatenato l'inferno, quindi dicevano non avvicinatevi, non avvicinatevi, quindi è possibile anche, questo non lo sappiamo perché non eravamo lì, che qualcuno abbia detto, ma guardiamo dentro chi c'è, e forse qualcuno ha detto, non vi avvicinate perché qui saltiamo tutti, e ovviamente la gente impaurita è andata via. E peraltro, per completare quella lettera appello, le fiamme mi hanno carbonizzato, sono stato trovato all'interno della mia auto solo alle ore 7 di mattina, anche per ricordare gli orari, eppure ero lì dalle 4.37, l'autopsia dimostrerà al mondo che non sono morto a causa dell'incidente, ma proprio per i fumi inalati. Questo per ricordare quella lettera appello che avete appena visto. Volevo con Anselmo Femia invece soffermarmi su questa notizia che poi ha depistato tutto, il fatto di aver visto scendere il presunto guidatore dalla macchina. E' possibile che ci fosse qualcuno in macchina come Alessandro? Ma assolutamente. Magari è scesa qualche altra persona che è scappato? Assolutamente, non era possibile, basta guardare la macchina. Allora, lui stava al posto di guida, significava montare a lui e scendere dalla parte del lato guida. Giustamente per come era posizionato, perché era bloccato. C'era lui, il lato passeggero non era possibile. Non era possibile. Anche per, basta guardare la macchina, le botte che aveva, quella sulla, sulla, la, la, quando è andata. Questa, però vediamo, nel senso che vuole dire impossibile, non può uscire. Non è possibile, non è possibile, assolutamente. Perché il dubbio è perché hanno detto di aver visto uscire? Che poi è dettagliata, potrebbero dire uscita una figura che non sappiamo descrivere. Assolutamente, forse questo confermo quello che diceva la dottoressa Cevardini, che tante persone, ma chiaramente non si vogliono esporre, non vogliono essere... Hanno detto, qualcuno voleva avvicinarsi alla macchina. Però è stato... Non persone dell'ATAC autistico, altre persone. Qualcuno diceva, no, perché adesso esplode tutto. E qui mi ricollego all'avvocato, se queste persone, che portano centinaia, negli anni migliaia di persone, se sono formate ed informate a come ci si comporta nel guidare un mezzo che praticamente è a gas. Perché se... Ma anche in casi come quello, no? Anche in casi come quello. A gas perché la paura loro, la paura che imprimevano a tutta la gente, almeno così mi dicono le persone, perché noi abbiamo fatto un volantinaggio, quindi ho parlato con tante persone che sanno, hanno... I video ce ne hanno tanti, ci hanno promesso, li mandavano, video e foto, che per fortuna l'hanno fatti. Se no, noi non è, almeno io, non era a conoscenza di come sono andati i fatti, di come si era svolto l'incidente. Quindi è questo, anche sulla dinamica dell'incidente. Ho dei dubbi, chiaramente la procura non ha mai, non ha approfondito, non ha fatto una perizia per vedere quello che è successo, le velocità, come diceva la dottoressa, una perizia cinematica dove descriveva quello che è successo. In qualche modo, di certo io non sono in grado, ho le mie idee, ma non sono in grado, come non penso l'avvocato, non è in grado, e nessuno di noi, se non fa quel mestiere, a fare, diciamo, una perizia, o comunque capire come è andato l'incidente. Anche se, ben o male, almeno personalmente, ho un'idea di quello che è successo. Ribadisco, ho paura, e non lo so, se la gente che porta, se l'autista, gli autisti che portano le persone, sono formati e informati sull'ordine di comportamento che debbono avere in caso di incidenti. E qui, per tornare anche al grido di dolore, ovviamente scritto da Tiziana Ciavardini, ma che interpreta Alessandro, affinché non si ripeta una cosa come questa. Abbiamo visto l'incidente del tram con, proprio oggi mi sembra, il giocatore, l'attaccante della Lazio, Ciro Immobile, abbiamo visto poi i filmati, macchina distrutta, il tram è qualcosa di diverso poi rispetto all'autobus, però. Sì, però parlano tutte e due perché sono rimasti vivi tutte e due. Ne accapitano tanti, no? Non è che parla solo uno, dice le sue. Certo, certo, certo. Per dire, però, questo è... Sono le 5 del mattino. Comunque, stava, forse mi ha letto nel pensiero, Samuel Maiolatesi, perché stavo proprio per chiamare il video che è quasi partito, nel ricordare ovviamente a chi ci segue, se avete gli altri video, se siete in possesso dei video, se eravate lì quella notte, scrivete al 334-92-29505, sms o whatsapp. La redazione mi informa che stanno arrivando tanti messaggi di solidarietà alla famiglia e tanti messaggi anche di pianti, di lacrime nei confronti di un 25enne che è morto così come vi stiamo raccontando. E allora, andiamo, torniamo a quel 26 marzo di un anno fa. Via dei Castani, Centocelle, sono le 4 e 37 del mattino, sono già passate, l'incidente c'è stato, e allora sentiamo anche l'audio del prossimo, del video che vi facciamo vedere. Sono le 5 del mattino, le 5 del mattino, via dei Castani, un autobus è andato a finire contro il Burger King e ha preso fuoco, ha preso una macchina, ha giaccato tutte le macchine, l'ha parcheggiata, guarda, guarda, l'ha pestata tutte, incredibile, ho sentito un botto incredibile, mi ha svegliato, sono i 5 e qualcosa, 5 e mezza, aspetta, incredibile, incredibile, ha staccato i cavi del tram, guarda, ecco, dovrebbe essere scontrato con qua la macchina, con qua la Golf là, allucinante, allucinante, addosso davanti al Burger King, incredibile, 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 è questo l'orrore a proposito di quanto è avvenuto il 26 marzo 2022 in via dei Castani a Centocelle, e si ragionava prima, proprio nel rivedere le immagini, mi è venuto anche ovviamente l'interrogativo, chi c'era, avvocato a bordo dell'autobus come passeggeri, erano le 4 e 37, a un notturno, anche qui, notizie, che contrastano, scordanti, esatto, quello che è stato accertato, perché noi solo di quello possiamo parlare, è che c'era l'autista e altre due persone, due persone di cui una è stata, una è stata sentita, però è stata sentita successivamente, perché non è rimasta lì, e poi era presente un altro soggetto che avrebbe assistito, non si capisce se ha visto, o piuttosto sembrerebbe aver sentito, udito l'urto, che poi è stato sentito immediatamente, ed è questo soggetto che si è contraddetto, dicendo prima che l'autista gli avrebbe detto di aver visto un soggetto scappare, e poi di averlo visto lui stesso. Ecco, il giallo appunto di chi ha lanciato questa notizia, che è la notizia effettivamente che ha ingenerato, l'equivoco è il pubblico ministero, la definisce la morte di Alessandro, la conseguenza tragica di una serie di vicende sfortunate, però noi davanti a questo, con tutta la compostezza che la famiglia ha assunto, nell'affrontare questa tragedia che continua a dimostrare, perché è passato un anno, non è passato tanto, eppure noi non lo possiamo accettare, perché non possiamo accettare che si dica che è una morte, senza fare tutti gli accertamenti che noi abbiamo richiesto, che sono evidenti, perché capire dopo quanto tempo, perché non si è intervenuti, sentire il più soggetti possibili, è il minimo che si poteva e si doveva fare, e quindi questa compostezza... Continuiamo a vedere, questa compostezza stava per dire, alla fine la pazienza uno la perde, ma è comprensibile, è comprensibile, davanti alla perdita di un figlio di 25 anni poi. Tiziana Ciavardini, invece c'è un'altra lettera, abbiamo visto quella che riguarda l'appello, e poi è arrivata questa lettera anonima, e bisogna parlarne di questa lettera anonima, perché evidentemente c'è qualcuno che vuole aiutare, anche se mantiene l'anonimato, la vediamo, ovviamente non riescono a leggere il contenuto, lo sintetizziamo, Allora c'è qualcuno che vuole aiutare, ma soprattutto c'è qualcuno che sa il mio indirizzo di casa, visto che questa lettera è arrivata direttamente a casa mia, e che è un indirizzo privato, e sa anche che tu sei vicino alla famiglia, e quindi il caso, perché non è che sei una giornalista di cronaca. No, esatto, anche perché fosse arrivata per altri motivi, potrei capire, ma siccome è arrivata per questo caso, e nella lettera è una lettera molto lunga, nel quale vengono poste, diciamo, vengono fatte delle dichiarazioni anche abbastanza pesanti, nei confronti dell'autista, questo lo possiamo dire, perché la lettera comunque, diciamo, è anche sui social la potete trovare, Vogliamo dare anche qualche riferimento social, se vuoi, tipo pagine? Sì, le mie pagine possono seguirmi tutte, io infatti ancora sto cercando la persona che mi ha mandato questa lettera, così inanonimato come ha mandato la lettera, mi può contattare, proprio per capire un po' di più di quello che c'è scritto in questa lettera, è una lettera nel quale viene rifatta praticamente tutta la dinamica di quello che è successo quella sera, quindi io sono quasi certa che la persona che ha scritto questa lettera quella sera, era presente all'incidente di Alessandro, o subito dopo l'incidente di Alessandro, comunque era lì perché ha spiegato esattamente come sono andati i fatti, e ci ha detto che c'è stata una volontà da parte di qualcuno, noi qui non possiamo accusare nessuno, ci mancherebbe, perché noi qui siamo sempre, io faccio la giornalista, racconto i fatti, non posso accusare nessuno, non voglio accusare nessuno, questo è un lavoro che farà la procura, assolutamente, questo è un lavoro che dovrà fare la procura, lo faranno gli avvocati, però ecco, quello che viene detto in questa lettera è che vengono, diciamo, messe in evidenza, diciamo, delle mancanze da parte anche dell'autista, questo lo possiamo dire, e quindi io chiedo ancora tramite appunto questa rete, a questa persona che mi ha mandato, se mi sta ascoltando, se qualcuno glielo può dire, magari lo sa, di mettersi di nuovo in contatto con me, per magari darmi ulteriori spiegazioni, chiarimenti su quello che è avvenuto quella notte, perché è molto importante per ricostruire quello che è successo, e la lettera anonima, devo dire che all'inizio mi ha fatto un po' timore, paura, perché comunque riceverò, forse è la prima lettera anonima che ricevo in vita mia, soprattutto su questo caso, che non è il mio caso, non sono le cose che seguo, e quindi mi è sembrato molto strano, una lettera scritta bene, molto lunga, quindi c'è una persona che appunto, si è prima procurato il mio numero, ha scritto questa lettera così lunga, l'ha inviata, e poi dopo però non si è fatto più sentire, voglio anche dire però che questa lettera è stata depositata, io sono andata a depositare questa lettera presso il comando dei vigili, il numero proprio del primo municipio, e mi sarei aspettata di trovarla poi nelle carte della procura, quando c'è stato il tentativo di archiviazione da parte allegata, e invece questa lettera non c'era, quindi o si è pensato che magari non fosse sufficiente ad aggiungere qualcosa in più a questa vicenda, altrimenti vorremmo chiedere anche questo, probabilmente diciamo alla procura, del perché questa lettera che diceva, o comunque verificare quello che c'è scritto in questa lettera, se veramente è così come la persona che ha scritto, e andare ad indagare su quello che c'è scritto in questa lettera, insomma non voglio rivelare troppe cose, perché c'è un'indagine in corso, e quindi è giusto che lo faccia la magistratura, e che non lo faccia io, però ecco quello che era il compito sicuramente della procura, era verificare se le cose che sono dette in questa lettera, sono vere o false, una volta che sono false, possono continuare anche a non protocollarla, all'interno dei documenti che sono stati dati, ma se poi viene fuori che quello che c'è scritto in quella lettera è la realtà, allora qui si aprono altri scenari. E allora andiamo in Australia adesso, per dimostrare come quando appunto c'è la volontà di salvare una persona, si fa di tutto per salvarla, lì ci sono anche le fiamme, come vedrete, sono immagini particolarmente forti, però poi c'è il lieto fine, perché la persona viene estratta dalla macchina e salvata, e allora andiamo a vedere questo video. Is there someone in the vehicle? Is there someone in the vehicle? Come on in! I'm taking a seatbelt! I'm taking a seatbelt! Go, 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 go! Go, go, go! I'm going to have a wreck you out! Come on! You're there, you're there! Push that seatbelt for me, please! Quickly, sir! Come on, man! Suck your head! Come on! Suck your head! Come on! Come on! Immagini forti, però lieto fine, avete visto l'intervento, il pronto intervento, c'erano delle fiamme, però c'è stato il salvataggio. Visto che stiamo andando alle conclusioni, volevo la consueto a chiosa dalla dottoressa Fabroni e poi gli appelli finali dei nostri ospiti. Dottoressa, anche alla luce di queste immagini che abbiamo visto, in Australia, evidentemente, sono più bravi. Beh, non credo che ci siano persone più o meno brave. Io credo che quella sia un'etica comportamentale e una morale che dovremmo avere tutti quanti quando ci troviamo di fronte a una situazione del genere. Io credo anche che comunque sia doveroso comunque a livello civico comunque dare assistenza e soccorrere le persone in difficoltà. Certo è vero che questa è una vicenda che veramente, come dicevo prima, apre veramente i interrogativi, ma la cosa che comunque ancora a me gira nella testa è che se veramente c'era qualcuno che si allontanava che era uscito dalla macchina sicuramente lo sportello era aperto. Non è che uno pensa se si allontana dalla macchina e riuscita lo sportello. Certo, questa è già un'osservazione intelligente. Penso che questa sia stato il minimo, quindi quello doveva spingere le persone che comunque si erano impegnate a commentare anche nel video che abbiamo visto ma veramente bastava poco per salvare la vita di un ragazzo, un ragazzo di 25 anni che vabbè un incidente può capitare può capitare a chiunque però questo non deve essere l'epilogo finale perché questa è diventata una tragedia in cui ancora una famiglia attende delle risposte e io spero che davvero questo caso non venga assolutamente attiviato perché deve essere un caso scuola, un caso maestro, una linea che deve essere comunque seguita perché come dicevo prima queste cose assolutamente non devono più accadere. grazie alla dottoressa Barbara Fabroni psicoterapeuta e giornalista ci rivediamo domenica prossima certo grazie buonasera Fabio buonasera ai suoi ospiti buonasera ecco proprio con gli ospiti vado a chiudere però prima degli appelli finali di Anselmo Femia e dell'avvocato Gardillo Tiziana voleva dire qualcosa a proposito anche lo dicevamo prima di questi autobus che molte volte hanno preso fuoco anche senza spuntri senza incidenti io anche sono testimone davanti a casa mia sono delle mine vaganti per la città perché noi immaginiamo se un incidente come quello che è avvenuto ad Alessandro fosse avvenuto con un autobus pieno di gente o magari in pieno giorno quindi e quello che mi chiedevo è se è stata fatta appunto la perizia su quest'autobus che sappiamo che non è stata fatta ma soprattutto questo autobus era stato revisionato da quanto era stato revisionato era a norma ecco queste sono tutte domande che noi ci dobbiamo porre per capire come mai un semplice impatto di una macchina ha generato poi quello che è successo quindi insomma queste sono tante domande ci sono tanti dubbi su questa vicenda ma uno dei dubbi è proprio questo cioè visionare quest'autobus ormai c'è una carcassa perché poi dopo le fiamme hanno completamente finché poi hanno danneggiato anche i negozi in zona altre auto per dire sì sì esatto tutte le autobus che lui aveva preso aveva colpito anche questo aspetto carambola ecco le vedete le ha colpite una dietro l'altra l'appello finale lo lascio ad un sermofemia prima sento l'avvocato l'auspicio ovviamente è che non venga archiviato no? è certo l'auspicio è che sostanzialmente venga fatta giustizia e vengano date quindi un appello alla giustizia e vengano date risposta a una famiglia che sta solo aspettando di sapere come sono andate le cose né più né meno niente di enorme che non sia accertare la verità dei fatti così come è andata e ovviamente se vi sono delle responsabilità per seguirle perché a quanto a mio modo di vedere già adesso con quello che diceva la dottoressa Fabbroni quello sportello chiuso ha centrato il punto della nostra è semplice però nessuno ci ha pensato è un fatto quello sportello è chiuso e quello è il fulcro della nostra opposizione come ha fatto a scendere e come hanno fatto a non aprirlo è rimasto chiuso fino alla mattina quindi vuol dire che si sono disinteressati chi ha un incidente ha un obbligo giuridico di andare a verificare se vi sono dei feriti o meno è un obbligo giuridico per non aver risposto e adempiuto a quell'obbligo risponde della morte quindi per noi e per quanto riguarda il mio punto di vista giuridico già ci sono i presupposti e quindi per questo di fare giustizia certo accertare anche gli altri buchi che sono rimasti incompiuti nelle indagini è una risposta che si debba dare che si deve dare alla famiglia però ad oggi ci sono i presupposti perché giustizia sia fatta speriamo che ciò avvenga Anselmo Femià soprattutto un appello a chi ci sta seguendo magari chi ci sta seguendo quella notte era lì no? e ha altro materiale utile sì materiale sì l'appello video foto altro che faccia capire video noi lo sappiamo perché gli amici l'hanno visto ci hanno promesso che proprio persone che hanno detto anche che volevano aprire lo sportello volevano vedere all'interno della macchina ma gli veniva impedito perché c'era la paura dello scopo adesso esplode tutto addirittura tra abbiamo anche un adio che traudisse no no ma qui gli scoppia tutto ma chissà i carabinieri chiedevano insomma ci stanno una serie di cose ma l'appello soprattutto io lo faccio a una macchina che stava dietro l'autobus perché dai video che abbiamo acquisito dalla procura c'è una presimobilmente una 500 che stava dietro l'autobus che ha visto tutta la scelta tutta lì si vede chiaramente come l'ho vista io l'hanno vista anche gli inquirenti che hanno fatto le indagini non si vede la targa lo potevano vedere su qualche telecamera prima ma questa persona è un senso deve essere fatta appunto per la persona per la morte di una persona come diceva la dottoressa deve essere un caso scuola il problema qual è? che questa macchina è scappata non si è fatta sentire e vedere ma noi sappiamo che stava dietro l'autobus non ci sono immagini che mostrano targa di questa macchina stiamo cercando adesso stiamo cercando di dire se è possibile arrivare alla targa comunque la macchina c'era io penso che se una persona per bene dovrebbe solamente fare un atto andare dai vigili in procura e dichiarare quello che ha visto quella mattina mi scusi può anche chiamare noi in anonimato se proprio non vuole andare dai carabinieri noi abbiamo messo a disposizione il nostro numero 334-9229-505 potete scrivere e poi noi vi contattiamo noi non abbiamo parlato di Alessandro abbiamo detto solo quello che è successo Alessandro era un bravissimo ragazzo aveva una fidanzata una famiglia che gli voleva bene lavorava da quando aveva 16 anni aveva tutta una vita davanti ecco concludo dicendo che noi stiamo mettendo anche in atto una petizione che verrà lanciata su change.org proprio per chiedere lo stop all'archiviazione quindi invito tutti quanti a firmare questa petizione quando sarà online adesso la prossima settimana ci lavoriamo e sarà a disposizione di tutti proprio per non far archiviare questo caso e anche ti ringrazio perché hai fatto bene a ricordare la figura di Alessandro anche se poi appunto in questi casi non è che parliamo di un giallo o di qualcosa per descrivere le persone protagoniste in questo caso veramente un innocente che si è trovato che il destino ha voluto portarci via perché poi di fatto quello che è successo troppe cose hanno contribuito grazie Tiziana Grazie a voi grazie a tutti grazie soprattutto ad Anselmo Femmia e un abbraccio a una parte di tutti noi grazie di Cusano Italia TV e all'avvocato Cardillo grazie per essere stato con noi tra poco noi andiamo all'appuntamento con la nuova stagione di Crimini nei Cieli Tenerife il più grande disastro aereo di tutti i tempi restate con noi grazie a tutti i tempi grazie a tutti i tempi grazie a tutti i tempi